Stavolta al Chieti l'impresa non riesce, anche perché l'Atletico Ascoli non è la Civitanoese. La Seccardini-Bende si conferma a squadra trasferta. Dei 24 punti in classifica, ben 16 sono stati conquistati lontano dallo Stadio Amico, ma soprattutto ribadisce il suo ruolo di mina vagante del Girone F, mostrando a pieno i suoi pregi, ovvero corsa, organizzazione e qualità. Di fronte a un Chieti spento, disattento e troppo compassato, il peggiore visto all'Angelini. Tanti, troppi, anche gli errori individuali in un pomeriggio di bel sole, iniziato all'insegna della musica con le canzoni del sempreverde Albano Carrisi e il saluto di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, invitato personalmente dal patron neroverde Altair d'Arcangelo. In mezzo alle suggestive immagini dei palloncini rossi e delle scarpe rosse, simboli che anticipano il lunedì, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Le scelte, Ignoffo riconsegna la maglia da titolare al portiere Mercorelli, dopo la maxisqualifica per la regola degli under, Oddo gioca nel tridente al posto di Tourette, cambio non forzato a centrocampo con Cordova al posto di Casciano. In casa marchigiana due assenze importanti, il portiere Pompei e il difensore Nolli, ma non se ne è accorto nessuno, tantomeno la squadra dirige Tedesco di Battipaglia. Partita subito viva, Severini ci prova al primo minuto e mezzo dalla media distanza. Gli ospiti insistono e pochi secondi dopo creano scompiglio accarezzando il gol in area neroverde. Vantaggio che invece trova il Chieti. Ceccarelli illumina per Fall che ci mette tutta la sua potenza ed esperienza per correre verso Galbiati e batterlo con un tiro preciso. Esplodono di gioia i 3.500 dell'Angelini nel nuovo sold out stagionale e corre felice il numero 9 neroverde al settimo sigillo in campionato. Partita in discesa, nemmeno per sogno. L'atletico Ascoli non fa una piega e inizia ad affacciarsi sempre più spesso dalle parti di Mercorelli, soprattutto con le incursioni sulla fascia destra di Antoniazzi lasciato troppo libero di crossare. Al tredicesimo ci prova Minicucci, Mercorelli blocca. Ventunesimo atletico vicinissimo al pareggio. Azione un po' confusa in area neroverde, forse c'è una spinta su Sini. La palla arriva Olivieri a pochi passi dalla porta, Mercorelli salva. Trentesimo atletico pericoloso anche nelle ripartenze, Clerici conclude al lato di Poco. L'unico break del Chieti al quarantesimo con un tiro da fuori di Ceccarelli, senza fortuna. Con le immagini di Alberto Capo passiamo alla ripresa. Il Chieti prova a pungere subito su calcio da fermo. Il tocco sotto misura è di forgione ma è troppo debole. Tre minuti e gli ospiti pareggiano. Punizione sul secondo palo dove la corrente ed Alessandro elude la difesa in sacca di testa. Primo cambio Chieti all'undicesimo fuori Cordova per Casciano. Quattordicesimo occasionissima per l'atletico con Camilloni. Davvero imprendibile il numero 25 ospite. Il tiro a botta sicura trova sulla traiettoria Mercorelli. Il raddoppio è però rimandato di due minuti. Stavolta Camilloni non sbaglia. Ignoffo manda in campo Balic e Turema. L'inerzia del match non cambia. In due occasioni al diciottesimo e poi al venticinquesimo Camilloni potrebbe triplicare ma non è fortunato. Ancora cambi sui due fronti. Partita un po' spezzettata. L'ultimo sussulto è del Chieti che al quarantaduesimo potrebbe anche pareggiare. Ceccarelli serve falle in area ma stavolta il centravanti colpisce male. Domenica Chieti scivolato al quarto posto a Recanati. La vicecapolista atletico Ascoli in casa con la Vigor Senigallia.